Tramvia di Firenze e via Cavour tra via Piercapponi e Piazza della Libertà. E ancora nell'ambito dei lavori preliminari all'arrivo dei cantieri sui viali per l'arena tranviaria 3.2.1, Libertà, Bagno a Ripoli, in calendario anche l'asfaltatura di via La Farina con provvedimenti notturni. Tutti i dettagli sul sito del Comune su Muoversi in Toscana.